Ciao Fore Ciao Steph Sai dove andiamo oggi? Certo, a conquistare la villa! Sai quanta gente ci sarà? Tantissima Moriremo E piangeremo Lo so E saremo tristi Esatto E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph e che stai giocare a Fortnite E benvenuti nel nuovissimo episodio di Fortnite E oggi andremo a conquistare la villa che sta al centro del lago Quindi proprio al centro della mappa Esatto, è proprio il punto peggiore dove si può scendere, secondo me Esatto, il più brutto C'è parecchio loot, però è proprio pericolosissimo Sei circondato dall'acqua, circondato da gente che è scelta ovunque e che ti spara Player ovunque, è proprio un bel posto Non è proprio il centro, mi ricordavo male, ma vabbè Eh, no vabbè, è abbastanza centrato, è abbastanza centrato Lago del bottino, sei pronta, Feren? Sì Andiamo a morire! Yeah! Yeah! Dovevo essere felice, non lo so, non so che mood devo avere Allora, nelle tre barchette di solito c'è del loot, Feren, di solito c'è un forziere Quindi se vediamo troppa gente sull'isola, puntiamo prima Viriamo sulle barchette, ok Lì vedo la ceste, lì vedo la ceste, forse c'è anche nella terza, vedi player? No No? No Davvero? Mi sembra strano Ce l'abbiamo fatta Mi sembra strano Abbiamo Cioè, poi soprattutto il taglio del bus era abbastanza vicino a qui, quindi boh Abbiamo conquistato il lago del bottino Vediamo, vediamo Non canto vittoria perché ho paura che qualcuno ti caschi all'ultimo Magari non lo vedi, capisci? Beh, sì, 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 mai sconcentrarsi La sfortuna Nel lago del bottino non si perdona l'essere sconcentrati Allora, Ferro sta suonando lì, qua c'è una bellissima ceste Oh Steph è già felice Steph è già felice Ok, allora mi metto l'altra cuffietta che se no non sento Mi hai fatto scendere un colpo, non mi hai detto che sei entrato in casa Sfondo il tetto e mi vedo uno correre, veri tu, vabbè Aspetta No, ok, ok Credo che siamo soli Non sono sicuro Ci potrebbero sparare Potremmo morire E quella è comunque una cosa molto certa Però, teoricamente, siamo soli Allora, lì vedi c'è la ceste Il problema è che da lì ti spara un sacco di gente Eh, sì, 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 mirano bene verso là Anche lì c'è un'altra ceste Ferro, stai spaccando tutto? Sto spaccando i mobili che richiedono solo un hit Così mi faccio legna nel frattempo che cerco Ottime da Allora, sotto purtroppo non c'era ceste Quindi una sola ceste in tutta la casa c'è andata abbastanza sfiga Io non ho trovato nulla di nulla Neanche un fucile? Neanche una pistola C'è proprio zero, Steph Sono messa malissimo Vediamo cosa c'è qui Dimmi qualcosa di buono Beh, c'è una mitraglietta Te la lascio? Sì, grazie Sì, 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 sì Ok, allora andiamo a prendere anche l'altro Beh, teoricamente conquistare il lago del bottino Vuol dire prendere tutte le ceste Sì, sì, sì E morirci E morire E morire Cioè perché siamo un lady No, beh, poi dai C'è comunque andata bene Ah, beh, eh C'è comunque andata bene Che non è caduto nessuno Esatto Quindi almeno dobbiamo prendere il rischio nelle barche Mi sembra giusto Allora, sto controllando Anche se è davvero lento camminare così Mamma mia Sì, io purtroppo ho solo 30 di mattoni Che non voglio sprecare per lutare Quindi alla fine sto accettando di stare così Ma mi sembra che non sia sceso nessuno Né alla villa Né in quel posto dove di solito va gente È impossibile Non ho mai visto una situazione del genere Beh, hanno sentito che andavamo noi Eh, sicuramente Un po' di paura ti viene, eh Un po' Ormai io sono rinomata per le mie uccisioni con il fenicottero E sai la cosa bella del lago del bottino? Mh È che siamo sempre dentro la zona Se clicchi M Siamo dentro È ovvio È bellissimo Questa è una buona cosa E quella è buonissima Allora, vediamo un pochettino Se questo forziere Vorrei qualcosa Di bello Di almeno blu Viola Io l'ho detta Però non penso che sia successo niente Una mitraglietta bianca Wow Se vuoi te la lascio Tutta per te Uguale a quella che ti ho già dato verde Grazie Molto utile Però sono gentile Oggi te la voglio lasciare Comunque a parte gli scherzi Andiamocene qui a lutare Se c'è gente la amassiamo Sì, per forza Se non c'è gente è ancora meglio Per forza Vediamo un po' Cosa abbiamo Qui abbiamo Una pistola Che Poteva Può sempre essere utile Certo Molto bene Come fai a combattere Senza la pistola Esatto Ok, una cesta Salgo qui sopra Munizioni per la pistola Molto good Fucile d'assalto Bianco Beh, almeno il fucile d'assalto Ma dai, ma bianco fa schifo Ah, dai Va bene, va bene, va bene Io ce l'ho verde E sono felice Sento un'altra cesta Quindi, eccola Ma erano tutte da te? Eh sì, ce n'erano due Ah, porca miseria Un altro fucile d'assalto bianco Lo vuoi? No, ce l'ho verde Ah, ok Almeno a te è andata bene Quindi Oh, mi è venuta paura Però era vicino Era vicino Eh, allora andiamo Era vicino Non bastava il rischio Di andare al lago del bottino Ora pure verso gli airdrop Eh, perché è andata troppo bene Morte viene da noi Dobbiamo equilibrare la partita Dobbiamo morire in modo stupido Per equilibrare il tutto Sì, sì Ma poi è andata bene Per modo di dire Cioè, non trovi gente Ma non trovi loot A quel punto preferisco andarmene L'altra parte Cioè È lì sopra? È qui, è qui Player? Sembra di no So good Vado? Eh, sì Vai, vai Quella sì che ho venduto Vai Ok Ora sono felice Eh, il medikit lo vuoi tu? Sì, ne ho tre Tre? Cioè, ne avevo uno Questi erano due Quindi in tutto ne ho tre Avevo lo slot So che si accumulano Quindi ne ho approfittato Per prenderlo Allora Fucile da cechino Leggendario Da single hit Quindi Steph Felicissimo Però Dove andiamo adesso? Perché ovviamente Voglio prendere ancora dei loot Pinnacoli pendenti Tanti dischi, eh Ceste Anzi, guarda Qua sotto c'è pure una ceste Scendi Occhio Scivola Scivola, scivola, scivola Perfetto Fucile a pompa verde Che mi prendo al posto della mitraglietta Quindi me lo prendo io Però tu ti prendi quella ceste di sopra Quindi Puoi avere la fortuna Di trovare qualcosa di più bello Di quel pompa Troverà qualcosa di bianco Con solini La sappiamo, vero? Ce la faccio ad aprirla da qui Dove per forza costruire Non riesco a saltarci Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'hai fatta? Sì Ho sprecato materiali Mitraglietta silenziata Oh E shield inutile Ora sì Che bello, eh Che si ragiona Sono geloso Vabbè, l'ho cambiata con l'altra mitraglietta Che avevo verde Perché almeno questa silenziata È decente Nello sparare, capito? Soprattutto a media distanza Quindi Meglio dell'altra Allora, lì c'era qualcosa di nostro di inutile E quindi i pinnacoli pendenti Sì Ce la rischiamo? Sì, sì, sì Sì, sono d'accordo Mi piace, mi piace Tanto comunque adesso almeno un pompa lo abbiamo Che comunque in città è fondamentale Perché se entriamo in un palazzo Ovvio, ovvio Ho visto già player a sud Lontanissimi che bullavano in un attore altissima Sì, sì, sì Li vedo, li vedo Quindi comunque sappiamo che c'è gente Porte aperte ovunque Fere qua mi sa che stiamo solo perdendo tempo Cioè, o proviamo a killarli Eh Che dici? Proviamo, dai Ci sta, eh Dobbiamo farlo Cioè, siamo il re del lago del bottino Non vorrei dire Ma quella è tanta roba Ci avrà visto? Non so Aspetta Tira fuori la testolina Vedo anche Vedo anche un'altra costruzione là Quindi un po' sono Non so se hanno fightato insieme Perché vedi che ci sono due costruzioni Nuova zona, siamo dentro Ma non troppo Sì Eh Ascolta Questa qua mi sembra gente a lunga Comunque qui hanno bullato per andarsene Quindi, teoricamente Ma un team L'avremo Beh Stanno litigando male, Stef Lì vuol dire che ci sono persone Andiamo sopra la collina e sfruttiamolo Ok Io volevo andarmene ma Comunque siamo anche dentro la zona Ci possiamo permettere di fightare Quindi Ci prendiamo posizione Ok Porca miseria C'è un bel fight Ci sono tanti team È un bel disastro Allora, occhio a non perdere troppo tempo Perché siamo dentro la zona Ma non troppo Quindi non Boom Boom Quello nel tetto L'ho visto L'ho visto cascare È bello che è andato Troppo lì Sparalo, sparalo, sparalo È entrato dentro Ok Non voglio sprecare proiettili Perché non ne ho troppi Sì, lo so Quindi sparò solo a colpo sicuro Capisci È fatto bene, è fatto bene Ci sono altre persone, eh? Li ho visti, li ho visti Lì c'è un'arma epica Ma è una pistola Sei tu? Sì Ok Mi sembra giusto Farsi un minimo di protezione qua Gente che sta facendo lì Un muro per chiudersi Ho sentito mettere una trappola Quindi nel palazzo di fronte Cavolo qui È pure arrivata la notte Di notte si vede molto meno Io la odio La so Ok, cerco di controllare Allora, ascolta Controlo dietro di noi Che non ci arrivi qualcuno E poi facciamo così Va Ok Purtroppo quello che ho stesso io È stato sicuramente Fatto tornare in vita Perché non siamo riusciti Ad ammazzare anche l'amico È un peccato incredibile E noi abbiamo altri qua sotto In questa costruzione Li vedi nel tetto C'è uno nel tetto Di fronte alle scale Che sta puntando Quello che bui da dentro È anche di fronte Nella collinetta Praticamente a est 105 gradi Li vedi? Su una collinetta Dopo il palazzo Sì Li visti? Molto carini quelli E c'è quello sul tetto Che cerca di prendere Quello sul tetto più basso Chi stai sparando te? No cavolo Mi hanno tirato qualcosa Sto cercando di sparare Qui due sul tetto Stanno a litigare Steph Che facciamoli? Lasciamoli a farsi Silenzio Pensa a quelli Pensa a quelli Silenzio Ti rianimo E ascolto Se arriva qualcuno Mi fermo E provo alla mazzalla pompa Ok vai Tanto sono piani Medikit Treneo Ok Quindi sono a postissimo Ok Perfetto Arrivano Vai Io mi puro Quindi pensaci tu No No Dai due secondi Ok ci sono C'è quello lì sopra Che io appena esco fuori da qui Mi ricechina Io non so che dire Ce la fai venire da me? Sì Eh se non mi ricechina Perché è sempre pronto là Vieni 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 Eh lo so però Ho paura di avvicinarmi Un'uscita mia di nuovo ricechina Stavo proprio osservando sicuramente Mi dispiace perché ho mancato un po' troppi colpi Porca miseria E anche io Anche io purtroppo E mi è venuta lo stress Perché so che quello ci fissa col cecchina Hai visto che c'è il fucile blu Col mirino che ti piace? Infatti me lo prendo Qua c'è bella roba Ferè Qua c'è bella roba Hai un altro Medikit? Sì Ti ho detto che ne ho tre in tutto E lo so però Sai Stai morendo ogni due secondi Magari li avevi finiti Allora qua c'è anche un pompa Da prendere Me lo prendo io questo Ok Allora un attimino Mi curo Quindi cerca di coprirmi in qualche modo Sì non so più dove sono comunque le altre Non ne ho idea Comunque uno l'hai killato tu Giusto? No Allora l'hanno killato altri Io ero stesa Ti dicevo che c'è quello col cecchino Che probabilmente ha visto Tutta la battaglia Ha preso a me Ha preso a loro Capito? Ok Eh ma era bravino eh Sì 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 No però detto io Appena mi sono sporta dalla costruzione Mi è arrivata di nuovo una cecchinata Ti sono avanzati i shield? Sì ne ho due li vuoi? Eh sì grazie Ok Mi ritiro al volo Eh dopodiché c'è una cesta dietro di noi Non so se l'hai notata Che ci prendiamo volentieri Ok Siamo rimasti già in 21 E la baia del bottino Lago del bottino Non so perché ho detto baia Ci sta iniziando ad andare abbastanza bene Nel senso È un bel match Mi sto divertendo un sacco È un bel match No certo Quante sniperate ho fatto? Due sniperate Nessuna delle due mi ha dato la kill E poi questo fight qua Quindi è stata una roba molto figa Tu stai imparando le sniperate Tu stai imparando le sniperate Sì no Scusa qui alla destra mi ha detto Dietro di te Destra Allora Sì vabbè Ma sotto le scale E forse l'ho copertata con le scale Ah ecco ok Allora aspetta che distruggo le scale Sì la vedi? Qua Senza niente distruggerle Ormai le ho distrutte Ah bene Ah bene Volevo usare per forza i suoi fenicotteri Sì non la vedevo per forza Ah vabbè dei razzi Non mi sono molto utili Ma va bene Quanti colpi hai per il fucile d'assalto? 62 62 Sono a 120 Altre munizioni Vai 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 Ne ho trovate altre Ok meno male E arrivo a 76 Dai va bene va bene va bene Va bene possiamo andare Ok let's go Nuova zona fere Materiali ho 200 di ferro Che è pretty good Però ho poca legna Ne ho soltanto 100 Quindi forse adesso mi metto a distruggere un attimino Qualche albero Sta arrivando anche un airdrop Potrebbe essere carino da prendere Hai visto le scale costruite alla nostra sinistra Sì Sulla montagnetta Quindi facciamo attenzione quando siamo sopra Sì quelle le ho viste Mi hanno fatto un po' di paura Perché potremmo avere gente sopra di noi Che è la cosa peggiore possibile Allora Non vedo la zona degli airdrop Nel senso non li vedo né volare Né dove c'è il segnetto che cade Quindi vuol dire che è lontano Stanno costruendo Vedi Dietro di noi Dietro di noi Dietro di noi Dietro di noi Li vedi? No non ho visione Fere è qua Ok Lo vedi? Sì L'ho colpito Gli ho colpito lo shield Colpito due volte Però mi sta facendo malissimo Niente niente C'hai fatta tu? Sì Cavolo Ha colpito solo a me No L'altro Te l'ho detto che qui sopra c'era C'era gente Vabbè dai C'è Nel momento in cui vinci il fight Almeno dieci secondi Per essere felice Del fight vinto Dateci Poi ci potete anche Guarda Guarda che maledetto Eh lo so Guarda 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 Guardate la scena Eh però Che poi è altra gente che corre Cioè Era pieno di persone Eravamo in nove Eravamo nove player Eravamo tutti lì Ragazzi è necessissimo Lasciateci un like Nella prima volta che ho detto Il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao